Velocemente Presidente, è un ordine del giorno collegato a un mio emendamento di bilancio assessore che ha fatto sì che venisse incrementata la legge 13 di una somma piccolina, avremmo preferito poterci mettere un pochino di più, ma da destinare ad attività di promozione turistica tramite bandi ovviamente, perché però vengano rivolti alle guide turistiche del Lazio. Vorremmo che questa professionalità del settore diventi in un certo senso protagonista del rilancio della promozione turistica della nostra regione, e soprattutto in questo momento in cui probabilmente queste competenze potrebbero essere utilizzate come una risorsa da indirizzare anche ad altri, non soltanto ai turisti ma anche ai cittadini della nostra regione o comunque ai cittadini che abbiano voglia di poter partecipare ad attività portate avanti dai professionisti, dai nostri front office come ci piace definirli, perché riteniamo che le misure che fino adesso sono state portate avanti, che sono ingenti e di cui ringraziamo il lavoro dell'assessorato e anche dell'assessorato dello sviluppo economico, che è sempre molto connesso con quello del turismo, però riteniamo che siano sempre stati trattati in maniera marginale, invece vorremmo che siano per una volta almeno loro i protagonisti del rilancio del loro settore. Grazie Presidente.